Flavio Zanonato, un grande risultato per lei e per il Partito Democratico? Sì, il Partito Democratico ha avuto un risultato travolgente ed è una soddisfazione oggi rappresentare il 40% qualcosa di più dei votanti italiani. Questo ci carica anche di grande responsabilità. Mi pare che abbia voluto dire questo, di fronte ai problemi la gente non accetta chi urla e chi produce disperazione ma cerca chi invece ha un progetto e offre una speranza. Zanonato, un risultato al di sopra delle aspettative? Oddio, i sondaggi erano vicini a questo risultato, un po' più scarsi ma vicini a questo risultato. Io personalmente, essendo stato scottato l'anno scorso con l'acqua calda, ero timoroso e spesso non li rivelavo. Mi dicevano ma cosa dicono i sondaggi e glissavo per temore di non dire una cosa che poi non si sarebbe verificata. Invece si è verificato un risultato ancora più bello. Per lei un bel risultato personale, anche oltre 97.000 preferenze se non sbaglio. Sì, un bellissimo risultato. Mi ha dato una gran mano il mio partito che si è molto impegnato e devo dire che siamo stati una squadra compatta, molto unita. Il Partito Democratico è il più grande gruppo nazionale del Partito Socialista Europeo e quindi conterà parecchio all'interno di questo schieramento. Noi puntiamo su due cose fondamentalmente. Potenziare il ruolo del Parlamento, che è una visione di insieme in una visione settoriale, punto uno. Punto due, molto importante, togliere il vincolo di stabilità per la parte investimenti. È molto importante che gli investimenti consentano la ripartenza dell'attività produttiva, che è la condizione per ripartire anche con l'occupazione. Grazie a tutti.